Maledizione! Adesso non mi potrò più mostrare in pubblico! Beh, hai provato a ripararlo! Beh, io ci ho provato! Provato e riprovato, però non riesco a togliermelo dalla testa! Ecco perché porto sempre il mio cappello a cilindro! Dannazione! Adesso non potrò più fare i concerti! Aspetta un minuto! Questo è un cartone animato, giusto? Quindi se faccio tipo così... Aspetta, Foxy! Cos'è questa storia di essere un cartone animato? No! No!